ciao ragazzi come state benvenuti a questo nuovo video oggi è 3 gennaio è passato un anno fa però è con diana oggi oggi ero ittiri ittiri vedere la città panoramica o qualcosa da e a sassari mcdonald poi cavalli e poi non so chi c'è dietro di me ciao giova ragazzi abbiamo preso era giovanni padre padre di evan comunque oggi ho visitato tante cose ittiri vedere panoramica fare storia di cacra sassari mcdonald poi club e piccoli appuano scavalli ho caricato la e poi calcio mi hanno fatto scrivere ho fatto una prova adesso sono arriva proprio tutto il suo schizzo metto lì a calcio ci vediamo prossimo video